Buonasera a tutti, penso che sia il caso di cominciare. Sono Mirella Parachini dell'Associazione Luca Coscioni. Credo che in questa veste sono qui, no, in realtà anche perché conosco Marina da tanto tempo. Sono ginecologo, quindi sono stata anche legata all'esperienza di Carlo Flamini. Non siamo qui per parlare di me, ma era solo per capire il senso del piacere e dell'onore che Marina mi ha fatto nel chiedermi di partecipare con Pier Giorgio Donatelli alla presentazione di questo libro. In realtà io credo che il modo migliore per presentare un libro è non dire un granché, perché lo dovete leggere. E questo ve lo dico perché io l'ho letto due volte. E in effetti nel rileggerlo mi sono resa conto che esistevano delle, accompagna tutto il libro, delle riflessioni che bisogna andarci piano. Non è una storia che si legge tutta ad un fiato, cosa che forse nella prima versione della lettura avevo fatto. Quindi la storia di tre figure femminili che raccontano ciascuna del proprio lutto, della propria perdita, che non è una perdita necessariamente per la morte del compagno o del marito. Quindi ci sono delle variazioni sul tema, ma quello che in realtà rileggendo ho trovato molto più come un filo rosso sono state due o tre cose e vorrei sottolinearvele per poi tacermi. Allora, un primo filone è quello della memoria. È quello della memoria. Allora, vi segnalo alcuni passaggi. Mi piacerebbe poter arrotolare il tempo come un tappeto e metterlo via. Una versione. Continuo a cercare, sono persone diverse che parlano in momenti diversi, continuo a cercare e a classificare. Stiro, ripiego e metto in ordine tutto. Organizzo lo spazio, come mi piace fare. L'ordine è una delle mie necessità. Siccome anche per me, e quando sono di cattivo umore, se lavo i piatti e metto in ordine mi passa, capisco molto bene questa cosa. Mi sostengo così, alimento la mia memoria, allestisco le mie difese. Ancora, per seguire il filone. Chissà perché torno sempre indietro con la testa. È come se volessi ricontrollare tutto quello che è successo. Come se ancora cercassi risposte a domande che non ci siamo fatti. E vabbè, dove abbiamo sbagliato, perché dura una coppia. Secondo me l'analisi della coppia, io adesso mi ripromettevo di seguire un filone, sto parlando della memoria. Però anche sulla coppia mi piacerebbe andare. Ancora, siamo in un altro passo. Tentare di ricostruire tutto nel dettaglio. Mi sembra un tradimento, come se ti avessi spiato per coglierti in fallo. Non l'ho mai fatto, quindi quando ho iniziato a domandarmelo non lo so. È che la pila di domande, accumulate in evase, a un certo momento comincia a scivolare, e così i foglietti sui quali le hai scritte non si tengono più in ordine uno sull'altro. Basta un soffio d'aria e si scompaginano, cadono in terra e finisci con l'inciamparci per forza. Anche questo incontro con il ricordo. E ancora, ho quasi finito sul filone memoria. La memoria, il ricordo, diventano in questo modo, in questo modo significa quando li vuoi tenere stretti i frammenti della vita passata insieme, diventano in questo modo il tuo orizzonte, l'unico panorama verso il quale capisci che per te ha senso rivolgere lo sguardo, la sola direzione verso la quale desideri allungare il pensiero. Forse qui ci vorrà Pier Giorgio ad aiutarci a capire questo orizzonte fatto di indietro anziché di davanti. Però anche tu Marina ci arrivi nel davanti. E ancora, nel ricordo, la mia memoria, come dicevi tu, opportunamente selettiva, ha fatto pulizia di quello che non è importante, che non è utile. La mia testa funziona così, i problemi, la paura, l'ansia, la cattiveria grande e piccola che abbiamo incontrato non mi interessano e non mi servono. Quindi non li porto con me, non lo abbiamo mai fatto, nessuno dei due. Qui quella che parla è la terza protagonista che si identifica naturalmente molto di più con Marina che le altre due, ma questo non ve lo voglio anticipare. E concludo dicendo che questo modo di interpretare la necessità di mettere a posto, di arrotolare il tappeto e in un'altra parte di nuovo c'è un'altra... ho preso troppi appunti e quindi non mi raccapezzo, però arriviamo al punto del libro. La mia strada è qui, tra le pagine. Lo so, la scrittura serve a questo, un modo antico per fare un backup dei tuoi dati personali e costruire una macchina del tempo come quelle nelle quali oggi riponiamo i nostri archivi, un luogo diversamente esistente nel quale ciò che non è più visibile continua la sua vita. quindi ecco un backup in modo antico credo che definire questo libro così è forse il modo più semplice. L'altro filone ma non lo percorrerò è l'amore quindi il ricordo la memoria e l'altro filone è l'amore come come espressione e come filo conduttore anche della storia di queste tre donne. Vi dicevo che ci sono dei passaggi sulla sui figli sulla genitorialità ditemi se sto sforando e mi taccio eh che forse vale la pena che io cito allora 63 e 71 non era previsto il microfono no no a proposito di differenza è anche questo un filone minore di meno evidente però è un filone che ritorna e qui dice continuo a pensare che la differenza è un valore aggiunto essere troppo simili e alla fine rende più instabile l'equilibrio invece che come alcuni pensano funzionare da materiale stabilizzante in un altro punto parli di una colla della diversità come collante nella coppia e ancora siamo diversi oltre che ovviamente differenti e la diversità è tracciabile confrontabile osservabile organizzabile in modelli in stereotipi qui vi avevo detto che non avrei affrontato amore però ho visto che mi ci casca l'occhio empatia e intelligenza nei rapporti di coppia contano di più e non tutti lo sanno neanche oggi e poi ancora d'altra parte c'è altro che conta di più in amore oltre all'amore sono andata fuori dal seminato perché era la diversità sulla genitorialità che volevo citarvi e trovo che ecco venendo da Marina che si è occupata così tanto sia in termini di impegno concreto sulla procreazione medicalmente assistita che come compagna di Carlo ma anche a livello proprio di riflessioni su questo mi piace citarvi questi passi che madre si diventa ma non si smette mai di esserlo e padre qualche volta e non per sempre sto prendendo una frase già iniziata mi sono resa conto che sarebbe che i maschi capiscono la genitorialità solo quando riescono a stabilire relazioni con i propri figli e che queste relazioni si devono basare sulla condivisione di qualcosa come se la maternità fosse prima biologia e poi il resto mentre la paternità no francamente non sono sicura che sia vero non solo perché mi sembra che i maschi siano un po' cambiati per forza visto che molto cambiate sono le femmine ma anche perché le generalizzazioni mi sembrano spesso superficiali ho incontrato uomini molto genitoriali e donne che lo sono pochissimo ma forse sono eccezioni ecco questi sono degli spunti che tu cogli nella lettura del libro è chiaro che non lo puoi leggere in una sera un libro così perché ogni tanto hai questa 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 riflessione che però ecco ho preferito non non stare ad illustrare esattamente come si svolge il libro forse Pier Giorgio lo vuole fare però non troppo non troppo fagli venire la voglia brava Marina comunque allora prendo la parola con molto piacere sono Pier Giorgio Donatelli insegno filosofia morale qua dietro in realtà alla sapienza e grazie Marina che mi hai coinvolto Mirella ha già detto è un libro importante denso molto denso è la storia di tre donne che parlano in prima persona si intrecciano queste storie e torna poi a Aurelia alla fine dove si intravede poi anche molto Marina ed è per chi conosce Marina Mengarelli è il libro che le ha scritto dopo diciamo la perdita che lei ha subito gigantesca immensa di Carlo Flamigni e diciamo si capisce con grandissimo dolore la sua lenta elaborazione di questa perdita del lutto e una sua graduale in qualche modo ritorno alla vita è una riapertura del mondo quindi è molto 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 denso e anche molto doloroso e molto importante e quindi Mirella ha percorso alcuni filoni e in particolare poi il filone del ricordo e della memoria e hai accennato l'amore io l'amore ci vorrei arrivare solo fra qualche istante e stare anche appunto è duro ma insomma è un libro importante anche per le persone che tutti noi affrontiamo la perdita ma è anche importante poi teoricamente a mio modo di vedere e quindi penso che adesso volevo farvi qualche citazione su tutte le parti dove si parla di questa nostra vulnerabilità della perdita della morte e il modo in cui possiamo uscirne perché Marina poi ha qui parla la sua esperienza personale e poi la scrittura attraverso la quale l'esperienza personale viene poi elaborata quindi ci sono questi due maestre in questo libro che sono l'esperienza e la scrittura alle quali poi si possono fare corrispondere però molti insegnamenti io qua leggo tutto un filone diciamo che viene da Freud da Melanie Klein da Winnicott dove noi dobbiamo imparare che l'amore è un mondo di caducità tutto finisce e l'amore deve essere proprio in grado di amare qualcosa che poi finisce e questa è una grande lezione che dobbiamo in qualche modo apprendere perché nessuno non c'è eternità da nessuna parte quindi è questo un libro dove tu dalla tua esperienza personale arrivi a quella lezione lì così difficile e metti di fronte al lettore esperienze molto dure e quindi qua una serie di citazioni che però voglio fare anche io voglio parlare solo qualche minuto perché ti vogliamo ascoltare quindi parli quindi è un libro dove si incontrano delle esperienze di perdita a partire dalla morte che tu descrivi così la morte è dappertutto ma nessuno se ne cura nonostante la sua inevitabile vicinanza chiunque sembra la protagonista principale di un grande progetto di rimozione collettiva questo è molto importante perché questo è un libro anche che se vogliamo lo dico subito si capisce poi alla fine quando con Aurelia si intravede un po' Marina e Carlo Flamini è anche un libro che in qualche modo potrebbe riguardare anche la bioetica e se vogliamo è l'altro lato della bioetica la bioetica è le libertà le regole pubbliche ma questa libertà e queste regole servono poi a mio modo di vedere per fare e qui poi c'è anche queste amnesie che adesso c'è Mina evidente c'è Mina Welby queste amnesie che diciamo cerchiamo di superare e va bene siamo in tanti c'è anche Mina Welby che ho salutato e che saluto a mio modo di vedere la bioetica poi quindi regole e libertà devono dare occasione e possibilità alle persone di fare dei percorsi personali con la vita e la vita è all'inizio della vita ma poi è la malattia ed è la morte e qui ci sono questi percorsi e quindi paradossalmente noi stiamo molto parlando della fine della vita delle regole però poi giustamente Marina dice ci manca cultura che è qualcosa di personale di pubblico dobbiamo tornare a fare cultura e avere una conversazione dove circolano queste esperienze quindi questo libro molto prezioso anche per la bioetica però è anche un romanzo e quindi ha il suo valore indipendente però è importante anche per la bioetica quindi la morte tu ci fai incontrare e il dolore che è descritto in una maniera molto dura e tu dici che hai la sensazione che anche il tuo corpo si stia separando da te sto citando Marina che non ti voglia più che di te non abbia alcun bisogno che è quindi una sensazione molto forte in cui diciamo il corpo si perde la paura quando la paura un'altra citazione diventa solida il respiro se ne va in giro lontano come se volesse dirti qualcosa del tipo non ti servo più arrangiati da sola lo sento addosso anche ora a mesi di distanza sto prendendo queste citazioni da queste tre protagoniste quindi adesso che sono tutte e tre donne che hanno perduto diciamo un uomo in modi diversi perché per una persona è una in realtà diagnosi di Alzheimer quindi lo perde perché si perde la biografia di quella persona che poi morirà molto dopo e quindi il dolore così radicale il lutto dove è descritto e io sono stato molto colpita come lo descrivi perché poi il lutto è la perdita di una persona ma poi è la perdita del mondo è la perdita del mondo dove noi possiamo in qualche modo muoverci con qualche tipo di agilità e dal cui traiamo poi interesse e motivazione ad andare avanti e che possiamo investire affettivamente di progetti e quindi di amore e questo mondo finisce con lutto e quindi tu lo descrivi così anche qua è una citazione bellissima e dura alla fine impari che quando perdi la persona più importante della tua vita il mondo non ti vuole più semplicemente perché di te per esistere non ha alcun bisogno è così che ti ritrovi un luogo che non ti interessa nei confronti del quale non provi nessuna emozione un posto vuoto i motivi per i quali tutto aveva un significato sono andati via e questa è un'esperienza durissima e molto vera cioè la perdita è la perdita del mondo e quindi tu dove sei rimani isolato cristallizzato bloccato senza possibilità di movimento quindi tu attraversi queste esperienze molto dure e però poi mostri la strada come si può fare a fare una riparare se stessi e il mondo una via della riparazione e questa riparazione anche la descrivi con linguaggio ricco e mi sembra molto profondo che come dire io la metterei così e poi ti cito di nuovo la metterei che tu ci mostri come bisogna fare una qualche tipo di esperienza intelligente della passività perché l'attività viene molto dopo essere attivi padroni dopo alla fine è una passività che devi cominciare a capire e quindi anche una forma di attesa e quindi tu scrivi che bisogna riuscire pian pianino nel dolore profondo che ti ha completamente bloccato a costruire un'esistenza elementare quindi io è in prima persona ho costruito un'esistenza elementare per me stessa fatta di piccole abitudini il parco e così via piccole abitudini quotidiane un'esistenza elementare che non mi ha chiesto niente mi ha lasciata stare si è messa al mio fianco ad aspettare ad attendere che il dolore che mi è stato addosso come una coperta mi lasciasse respirare meglio che è straordinario quindi qua tu devi costruire delle piccole abitudini una forma di vita che in qualche modo ti consente di andare avanti e ti consente uno spazio dell'attesa ancora una citazione non so dire quando ho cominciato questa è Aurelia quindi diciamo è un po' più Marina che parla non so dire ma sono anche le altre donne sono anche esperienze in cui possiamo entrare tutti noi non so dire quando ho cominciato ad avvertire qualche minimo cambiamento se devo proprio individuare un punto preciso non so se sia utile forse è stato quando dopo aver camminato più a lungo del mio solito in una giornata di sole tiepido ho avvertito la fatica nelle gambe e mi sono ricordata di avere un corpo quindi questo corpo di Aurelia l'ultimo personaggio la terza donna che torna è il mondo che comincia a rifarci sentire con le sue esigenze con i suoi bisogni con la sua realtà esterna a te stesso e quindi tu ricominci a muoverti e ad avere un interesse e una motivazione e tu lo descrivi magnificamente ma chiudo perché ho già forse parlato troppo con questa cosa dell'amore che diceva anche Mirella che mi ha molto colpito perché qui poi ho un'altra citazione con cui voglio terminare l'amore qui è evidentemente ha un contesto particolare ci sono tanti tipi di amare nella vita e il contesto particolare è l'amore di un uomo o di una donna questi uomini muoiono e le donne hanno questo compito del ricordo e di ricostruire una vita attraverso l'amore però il punto che mi ha colpito è che questo amore per Marina è l'amore che l'ho detto all'inizio e lo voglio ribadire e ora leggere è l'amore che riesce a a vivere nella perdita quindi Marina dice perché noi siamo in un mondo in cui tutto finisce Marina scrive a un certo punto all'inizio del libro nulla resta identico in natura per un tempo sufficientemente lungo per che lo si possa giudicare stabile e inserirlo come un elemento di sfondo nel personale paesaggio di ciascuno perché ci si possa contare e si riesca a farci affidamento pensarlo solido inamovibile quindi le cose a cui più teniamo in cui nutriamo fiducia e che ci danno il senso del terreno solido a un certo punto si sgranano si dissolvono e tutto finisce muoiono le persone finiscono anche le cose anche i nostri impegni anche politici le cose poi finiscono nella vita però l'amore è la capacità di ricostruire un attaccamento alle persone al mondo che faccia tesoro della caducità che riporti attraverso il ricordo la persona morta dentro di te quindi la riporti nel tuo mondo interiore e l'amore è rivolto verso il mondo interiore e l'amore verso le cose che sono legate alla caducità continuo a ripetere questa parola è anche un saggio breve e bellissimo di Freud caducità l'amore verso le cose che terminano è l'amore e l'amore verso le cose che in un termino è un'illusione è una forma di immaturità quindi l'ultima parola è che questo è un libro che ho trovato molto c'è una grande maturità Marina che tu hai come dire elaborato attraverso una tua perdita importante che si sente tutta però ci lasci questo regalo a tutti noi che questa è la strada da fare e diciamo che non ci sono non c'è modo di svicolare che non sia una forma di illusione che non sia una forma di immaturità quindi grazie per avercelo regalato a te Marina proprio volete? cioè io mi fermerei anche qui volentieri beh insomma sì questo non è un libro come altri che ho scritto è un libro decisamente più inevitabile un libro che non che non potevo non non avere bisogno ecco non desiderio non voglia bisogno di scrivere la scrittura come dicevi tu Mirella è ma insomma è cosa nota una grande aiuto una grande terapia può essere una strada veramente di salvezza uso una parola un po' importante e non l'ho scoperto io insomma è nella storia della letteratura e della filosofia e vorrei fermarmi su un punto perché non me l'avete non l'avete diciamo non me l'avete domandato e quindi me lo domando da sola ve lo dico lo racconto agli altri perché tre storie dunque questa non è la prima stesura è stato un libro faticoso come stesura io in genere non ho una scrittura faticosa invece questo lo è stato è stato un libro faticoso molte stesure ripetute il mio editore mi ha molto assistito aveva aiutato ne abbiamo parlato variavamo praticamente sempre con questi lockdown avanti e indietro quindi insomma è una situazione che abbiamo tutti provato di cui abbiamo fatto tutti esperienza e quindi io gli mandavo una prima stesura e lui mi diceva no non va bene è ancora troppo personale è ancora troppo troppo diretta è troppo dolorosa ci devi lavorare ancora e io l'ho rifatta quindi prima era una storia diciamo più imperniata direttamente su di noi poi era una storia la seconda è stata una storia sempre ancora in prima persona ma più rivolta alla relazione a noi due all'unità psicosomatica Carlo Marina e non era bene neanche quella e quindi ancora di nuovo allora mi sono messa a pensarci e ho ho fatto una cosa che ho già fatto altre volte per Giorgio cioè ho trasformato in un romanzo dei temi di cui che a me interessano ecco temi della bioetica all'inizio della vita alla fine della vita li ho trattati altre volte nella forma di romanzo non nella forma di un saggio perché secondo me quello è un modo per far viaggiare più veloce un argomento per farlo conoscere di più per farlo girare tra persone che non hanno una cultura specifica di riferimento tu usi un altro un altro un fondo in qualche modo un'altra un'altra barca un altro mezzo di trasporto e quindi ho detto va bene allora adesso cambiamo tutto ricominciamo da capo e siccome nel frattempo mi erano successe delle cose una di queste cose una cosa importante che c'è nel libro è stata per me è stata una scoperta insomma un'esperienza nuova è stata quella di è stata la costruzione di relazioni che in parte esistevano e in parte invece sono avvenute successivamente relazioni con persone che sono passate attraverso esperienze analoghe e che alcune le avevo conosciute altre no in un modo o nell'altro per qualche ragione hanno deciso di raccontarmi le loro storie quindi le storie sono storie vere c'è un nucleo di storia vera in tutte e tre e poi che dopo io ho rielaborato in maniera diversa e la cosa che è stata per me importante è stata questo incontrare questo desiderio di parlare questo desiderio di qualcuno che ha sofferto molto e che come se ti riconoscesse come se tu avessi una lampadina accesa qua e ti dicesse ce l'ho anch'io adesso ti racconto la mia di lampadina ti dico com'era com'è stato ed è stato così cioè mi hanno raccontato delle storie e allora a quel punto ho detto va bene allora proviamo a fare quello che è l'ambizione di chiunque scriva no? cioè tirarci fuori dalla propria vita e pensare che questa piccola vita individuale abbia un senso diverso possa servire negli altri no? possa essere utile ad altri e questa è stata la linea guida cioè cercare di trasformare l'esperienza personale in qualcosa di universale attraverso tre storie come dicevo vere diverse con dolori diciamo lutti diversi come tu dici uno di questi lutti che forse è uno di quelli più drammatici a mio avviso è quello della malattia di alzheimer ma anche sì ma anche l'altro insomma un lutto importante ecco però quello che mi sarebbe molto essere riuscito a fare non so se sono riuscito a farlo è voi avete usato molto spesso tutte e due lo stesso aggettivo duro l'avete mi avete dato questo peso ulteriore addosso io non vorrevo scrivere un libro duro anzi ho pensato di voler scrivere qualcosa di propositivo che potesse servire per il dopo e però non si può pensare al dopo se non si passa attraverso il prima e quindi prima devi come dici tu passarci attraverso non nasconderti non pensare che andare a fare un viaggio e passa non cambiare casa devi passarci in mezzo questa è secondo me l'unica cosa che mi sento di poter dire passarci in mezzo passarci attraverso ti fa a un certo punto percepire che una strada possibile può esserci poi non 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 vorrei generalizzare neanche in questo caso non voglio dare lezioni a nessuno non è nel mio carattere nel modo più assoluto tanto meno su un argomento come questo così delicato e personale quindi non ci sono lezioni non ci sono regole non c'è niente come al solito al mondo qua non c'è niente però un piccolo contributo di storia personale passare a prenderselo tutto perché non c'è un'alternativa poi ti può consentire di guardarti intorno e di trovare qualche altra cosa e per me la scoperta sono state le relazioni con gli altri in particolare con delle donne devo essere sincera ma non solo con delle donne i sottenti conoscevo già da prima però i rapporti si intensificano quelli che restano questa è un'altra cosa laterale di cui non abbiamo parlato però è citata nel libro perché dato che è una cosa che si vive è una cosa che si vive esatto c'è una così riorganizzazione diciamo così delle relazioni sociali umane affettive alcune si perdono e altre si trovano alcune diventano improvvisamente evanescenti e altre si solidificano vecchie e nuove e io lo trovo un vantaggio alla fine alla fine la lista delle cose che contano la fai più corta ma sono cose più importanti cose che ti servono quindi qualcosa impari e quindi qualcosa porti a casa e poi è la solita vecchia lezione che attraverso il dolore si impara e si può migliorare è una ipotesi della storia della filosofia è bello poterci credere no? Basta Se abbiamo ancora qualche minuto io vorrei intanto farti una domanda che è una domanda facile anche per chi non ha letto il libro perché è scritto nella copertura nel retro della copertina dove c'è questa citazione che secondo me in qualche modo viene smentita anche da quello che tu hai appena detto in cambio del dolore si può avere la certezza che certi sentimenti da cui il titolo del libro sono per sempre in cambio del dolore si può avere la certezza che certi sentimenti sono per sempre se il dolore non c'è questa certezza non c'è anche in questo caso non parlo per gli altri parlo solo per me ma il dolore rende la certezza più definita gli da un peso maggiore te li rende più visibili è un test da sforzo sì in qualche modo sì poi non voglio dire non generalizziamo ancora di nuovo però però sì non so se Marina vuoi aggiungere qualcosa sulle relazioni perché questa cosa che hai detto è importante nel senso che qui c'è tutto un lavoro dell'amore che emerge nel libro che è il lutto la perdita il ricordo e poi la capacità di ricominciare a vivere e sono tutte forme di amore e cioè di investimento affettivo del mondo delle cose delle situazioni delle persone però qua tu l'hai fatto appunto scoprendo o approfondendo o inventando un nuovo mondo affettivo che sono stati innanzitutto delle amiche con cui hai parlato e gli amici e poi dopo o in modo secondario sono arrivati dopo non so se ce lo vuoi raccontare perché tutto questo poi è avvenuto Carlo Flammini è morto nel luglio del 2020 e poi noi ci parlavamo al telefono e quindi tutto questo è avvenuto in un momento anche molto particolare che il mondo ha avuto un'immensa perdita infinite perdite col covid e tutti eravamo in lutto quindi in quella condizione del covid della pandemia dei confinamenti poi Marina ha fatto anche la sua esperienza di lutto e di perdita e di grande isolamento la tua bellissima casa con Carlo e però lì tu hai intrecciato e lo dici nel libro anche solo col telefono di rapporti quindi questo lavoro dell'amore poi tu l'hai fatto con altre persone non è un lavoro solitario del ricordo solo sì è vero e questo in qualche modo è anche stata una scoperta cioè si può dire che mi conosco meglio ecco a questo punto della mia vita quando passi attraverso un'esperienza di questo genere può capitare credo che la conoscenza di te stesso tu la riesca a rendere più profonda cioè capisci meglio delle cose di te proprio di come sei fatta e non soltanto per la ragione importante nel mio caso dopo una vita molto molto stretta condivisa moltissimo con oltre 40 anni cade il mondo cioè non è una persona che va via vai via tu cioè va via la tua identità perché nelle coppie che stanno a lungo tanto tempo i legami sono talmente intricati e forti che c'è un problema forte di identità per chi resta c'è una sorta di perdita dell'identità c'è perdita dei confini e quindi devi ricostruirti infatti il sottotitolo del libro è storie di vite ricomposte perché questa è insomma l'obiettivo è anche questo dirlo che c'è una ricomposizione possibile che si può fare e che è una strada che si può percorrere e che è forse una delle poche a mio avviso che si può percorrere la diciamo la maggiore conoscenza che parlo per me io ho avuto di me stessa di come sono fatta io come persona adulta oggi a quasi 70 anni mi ha consentito in maniera in fondo anche strana per me di metterne in luce una mia dimensione relazionale che francamente neanche sapevo di avere molto sì questo è un po' una scoperta forse una sensibilità maggiore poi ripeto anche qui niente regole quindi per alcuni può essere così per altri può essere esattamente il contrario invece no è un desiderio di chiusura di non dico di chiusura non voglio dare un valore negativo a questo ma di concentrazione su se stessi cioè ci possono essere persone che invece decidono di concentrarsi molto talmente tanto su se stessi che pensano di non aver bisogno sento di non aver bisogno di avere relazioni cioè e ripeto va benissimo anche così cioè ripeto non ci sono regole nel mio caso forse io ho scoperto una dimensione delle relazioni importante un nucleo di persone femmine ma qualche maschio tu sei uno dei maschi dei due maschi adesso è che per esempio davanti due con i quali le relazioni sono diventate anche più profonde probabilmente credo anche per una mia maggiore disponibilità emotiva psicologica insomma prima c'era una concentrazione assoluta sulla coppia e dopo e dopo ci sono state scopri di avere delle possibilità ecco non so degli strumenti possibili di toccarlo il mondo e no il mondo lo tocchi attraverso le relazioni che stabilisci siamo in perfetto orario avevamo le sette come tempo non so non avevo l'idea non mi ricordo non so se avete chi avesse già letto il libro se ci sono delle domande da parte vostra e allora lo dovete andare a leggere subito si si tra gli appunti che avevo preso mentre parlavi tu Pio Giorgio sulla questione della bioetica quando tu hai detto che dentro ci sono temi l'altro lato della bioetica allora no mi fermo c'è Mina Welby che vuole fare una sì ma voglio dire poco poco ok sì no io ho letto soltanto poche pagine saranno cinque pagine però mi ha stimolato per l'auto analisi di me stessa e poi anche di analizzare meglio perché mi arrivano tantissime richieste in questi ultimi anni mi sono arrivate tante richieste e quindi analizzare anche tutto quello che ho vissuto in questi anni per me questo è molto molto importante solo questo volevo dire c'è un'altra domanda mi scuso avevo fatto un errore di orario sono arrivato un po' tardi avevo capito che iniziava alle sette invece finisce alle sette mi chiedo scusa però diciamo mi ricollego un attimo a questo che diceva Mina da un punto di vista più legato alla dimensione Luca Coscione no? che siamo in un ambiente non so di simpatizzanti o comunque dentro un certo stream che è quello che ci insegna Mina Marco Cappato e così via e quello che rilevo nel poco che ho sentito è l'importanza di immettere questa dimensione che è del vissuto della persona della vita diciamo in un in un contesto di discorso che invece è fortemente dominato da aspetti che sono politico barra legali politico trattino legali che spesso prevalgono per ovvi motivi perché un'associazione di questo tipo lavora rispetto alla politica rispetto a quello che si deve ottenere dalla politica però il fatto che per così dire resti sempre abbastanza tra parentesi la dimensione che cos'è il fine vita che cos'è realmente il fine vita e così via a parte brevi sprazi io la trovo poco poco toccata i militanti dell'associazione Luca Coccioni sono tutti fantastici quando scendiamo a fare i tavoli e così via però poi l'argomento su cui ci stiamo concentrando è poco percepito se non appunto in termini di dialettica politica quindi mi sembra molto interessare di aprire uno spazio di di questo genere io personalmente sono molto diciamo influenzato da per esempio dalla lettura di Cinque Inviti di Ostaseschi non so se qualcuno conosce questo libro che è una rassegna di casi percepiti dentro momenti molto particolari che sono quelli degli hospice e che danno una dimensione di che cos'è questo stato che è molto 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 ricca è molto importante per tutti noi e che non può essere ridotta alla questione affermiamo l'eutanasia a fronte di questo giustissimo obiettivo politico ci dovrebbe essere secondo me un approfondimento più intenso grazie ti volevo chiedere Marina tu prima che tutto questo succedesse ti eri mai chiesta se ce l'avresti fatta come avresti fatto senza Carlo vedevi te stessa nel dopo e seppure un'amica e se non eri un'amica allora Carlo aveva vent'anni più di me ci ho pensato sempre che io sarei rimasta sola ci ho pensato sempre e gliel'ho detto sempre ho detto il prezzo più altro che io pagherò a questa meravigliosa esperienza che stiamo vivendo e che per fortuna nostra è durata più di 40 anni è che io resterò da sola nella parte più fragile della mia vita detto questo cosa avrei fatto di me non l'ho mai minimamente pensato non ci ho mai riflettuto era una cosa di quelle nascoste ma ce l'avevo qui dal primo momento volevo dire una cosa a proposito di quell'intervento dunque intanto che in una presentazione la prima presentazione che è stata fatta a Bologna una delle due relatrici è Danila Valenti che è la responsabile della rete degli hospice della comune di Bologna lei pensa per esempio che questo sia un libro che può essere utile da segnalare ai parenti che hanno familiari negli hospice e lo ha regalato ad alcune persone familiari di diciamo di cui si è fatta carico perché le cure palliative sono un particolare mondo e il paziente non è solo chi va via il paziente è anche la famiglia e quindi quelli che restano e che restano con grandissime difficoltà sono in qualche modo presi in carico anche da chi si occupa dell'ultima parte della vita specialmente quando è negli hospice l'altra cosa che lei diceva se vuole le posso rispondere con una battuta dunque dieci anni fa ormai forse più di dieci anni fa io ho scritto un libro piccolissimo tra l'altro cui i proventi sono andati all'associazione coscioni sulla bioetica che si chiama non che cos'è la bioetica ma a che cosa serve la bioetica ci sono tracce questa mia fissazione ormai di vecchia data anche penso in tutto quello che ho fatto anche dopo insomma io credo che la bioetica deve occuparsi di più delle persone e un po' meno o perlomeno non solo del lato teorico ma affiancare al lato teorico il mondo vero quello fuori della gente delle persone delle difficoltà che hanno e avvicinare quante più persone è possibile proprio per non lasciare tutto nelle mani di nuovo di un'altra casta il rischio della casta c'è Pia Giorgio tu sei di quel mondo il rischio c'è allora quel rischio noi e anche la coscioni da questo punto di vista è un aiuto straordinario è un protagonista fondamentale delle battaglie di libertà degli ultimi anni vent'anni tra poco ci sarà il ventennale vent'anni di battaglie di coraggio delle persone che insomma hanno fatto delle battaglie esponendosi personalmente direttamente e questo tema è un vero tema quindi la bioetica deve diventare molto più democratica deve abbandonare gli schiaffali alti delle librerie delle biblioteche e trovare il modo di parlare direttamente alle persone per fornire strumenti di aiuto di sostegno di riflessione senza paternalismi un aiuto di riflessione personale che ciascuno può fare e che diventa poi una strada per veramente compiutamente affermare la propria autodeterminazione che se no è una parola un po' banale un po' superficiale se non è coniugata con un aggettivo che la qualifichi una battuta perché in effetti poi Marina adesso l'ha detto altrimenti la conosciamo tutti quindi qui è un romanzo c'è l'esperienza sua di queste amiche trasfusa in questi tre personaggi però Marina è anche una che si è occupata di bioetica una sociologa molti libri scritti e c'è la associazione naturalmente Coscioni e quindi c'è anche la bioetica quindi per dare appena una versione diversa di quello che hai detto non è solo teorico e pratico il tema ma è anche che poi la bioetica poi sul piano politico è avere libertà e regole quindi poter avere libertà e regole in tutte le fasi libertà di diciamo esprimere le proprie volontà regolate con le leggi con la pratica medica bene però tutto questo in effetti a che cosa serve e questo libro lo dimostra anche se poi queste persone non hanno avuto bisogno del suicidio assistito delle direttive anticipate non ne hanno avuto bisogno benissimo però che cosa servono queste regole e questa libertà è per dare occasione di educarci e democraticamente come hai detto tu che questa educazione circoli perché affrontare la propria morte che è comunque una fase di vulnerabilità di malattia ed è la nostra morte ci fragilizza ci vittimizza ci passivizza ed è solo la cultura e l'educazione e poi l'esperienza di Carlo è stata straordinaria ed è stato anche però fortunato perché è stato tutto molto breve però è straordinaria tu la racconti e poi abbiamo fatto anche un fascicolo un libro di ricordo su Carlo scritto anch'io sulle ultime ore in realtà di Carlo l'ultima giornata serata e notte quindi l'altro lato della bioetica è la possibilità di educarci e quindi questa è una vecchia storia che la filosofia ha sempre affontato cos'è la filosofia imparare a morire per ora ci sono condizioni nuove perché tutti noi a un certo punto o moltissimi di noi affronteremo la morte in condizioni che riguardano gli ospedali che riguardano la medicina che riguardano situazioni che magari siamo allontanati dalla nostra casa con quel freddo delle procedure mediche che ha la sua freddezza la sua impersonalità e quindi dobbiamo avere cultura per sapere che cosa è meglio per noi stessi e andarcene come siamo stati riuscire ad andarcene in coerenza e quindi anche con qualche tipo di felicità nel dolore di capacità di governo adesso non voglio parlare delle ultime ore di Carlo però c'è anche questo nel libro sì ne ho scritto l'ho scritto anche sulla rivista bioetica prima l'abbiamo fatto anche tu hai scritto abbiamo fatto una riflessione diciamo su questo su come si su quali sono le strade che uno ha davanti quando la prospettiva concretamente si chiude esatto quando concretamente sai che è ore contate o giorni contati adesso non non è qui la sede insomma per fare una riflessione su questo però è vero quello che tu hai detto in un altro modo ma quello che io avevo detto prima educare educarci educarci si conoscere io direi conoscere comprendere veramente non superficialmente ma profondamente quindi con tutti gli strumenti di conoscenza necessari per farlo quali sono i percorsi possibili per rendere la nostra libertà cioè la prima parte della Costituzione è sempre lì in fondo a che serve la bioetica abbiamo le Costituzioni in fondo non serve cioè aprivi gli articoli delle Costituzioni hanno già una Costituzione come la nostra c'è già tutto e invece non è vero perché l'esperienza di questi anni dice che non è vero però da un certo punto di vista uno potrebbe dire anche così perché una costruzione teorica multidisciplinare così complessa come la bioetica in fondo basterebbe tenersi stretti i nostri diritti che però sappiamo bene è che appunto se non vengono tenuti stretti possono essere anche possono caderci dalle mani improvvisamente o qualcuno potrebbe dargli un colpetto per accelerare la caduta io volevo anche io in quanto coscioni non in quanto cogliere questa questa annotazione più che domanda che lei fa perché credo che è veramente importante capire se c'è un'associazione politica che si occupa per appunto un diritto che è quello della libertà del fine vita pensare che non c'è abbastanza riflessione invece sulla questione lo capisco tanto più in una sede come questa però in realtà meno male perché deve essere un diritto che poi si confronta con le singole esperienze le singole esperienze guai a generalizzarle quindi che la coscioni rivendichi o il fine vita o che appunto tutta la campagna che venga fatta sia venga fatta in nome di un fine vita che deve rappresentare e rappresenta necessariamente quello no dipende dipende bisogna capire semplicemente che se c'è la libertà e lo paragono un po' all'aborto si racconta l'aborto come se fosse sempre un vissuto omogeneo standardizzato dipende dipende da tante cose può essere vissuto in tanti modi può davvero essere una grande angoscia un grande peso c'è anche chi per delle situazioni per cui è una liberazione no poi c'è c'è chi ne ha voluto fare provocatoriamente il titolo di un'associazione ho abortito e sto benissimo ma questo è solo per dire che standardizzare quello che c'è sotto è il diritto che noi che noi è il diritto di scegliere e oltretutto credo che le situazioni siano profondamente diverse e questo nel libro c'è e c'è in quello che ci hai appena riraccontato insieme a Pier Giorgio c'è situazione situazione la vita di un DJ Fabbo la vita di un Pier Giorgio Welby è una vita che se non ci fosse l'intervento forzoso forzato non ci sarebbe quindi fine vita attenzione fine vita io sono sempre abbastanza scioccata quando bisogna spiegare in alcune situazioni che tu vuoi spezzare la negazione della fine della vita e quindi rivendicare il fine vita a quel punto e quindi vabbè potremmo stare a discutere chissà quanto ancora grazie a tutti buona lettura grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti